Ogni volta che muoio, cambio GTA. Questa è la grandissima sfida di oggi che farà qui il Jovix insieme a voi, signori. Ma ovviamente prima di cominciare questa sfida, signori, vi ricordo di lasciare un bellissimo like a questo video, di premere il tasto rosso e iscriviti, e se volete di lasciarmi anche un bellissimo commento, signori. E io direi adesso solo una cosa, incominciamo subito questa sfida! Bene ragazzi, ci siamo, siamo qui su GTA V, iniziamo così e non devo morire ragazzi. Quindi iniziamo a fare un po' di casino, PEM, benissimo. Stacchiamo di resistere il più possibile, cannone a rotaia, vai! Pum, proprio via! Ne arriva un'altra lì, PAM, via! Ma babbia, signori, siamo fortissimi con il cannone a rotaia, PEM, via! Benissimo, benissimo. Dai, fatemi vedere, su! Guardate, ne arrivano alcuni da lì, PAM, via! Però io adesso cambierei arma, andrei con un bel fucile d'assalto. Mamma mia, mamma mia! Via! Perfetto! No, ci sono quelli a piedi. Vai, 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 vai! Dobbiamo resistere, signori, dobbiamo resistere! No, devo cambiare, granata! Granata! Devo andarci con il cannone a rotaia, mi sa, per forza! Bene, mamma mia, signori! Ragazzi, sarà difficile su GTA 4, perché è un casino, ma soprattutto anche su San Andreas, già me lo immagino il casino che ci sarà. Porca miseria! Elicottero mi dà fastidio, l'elicottero! L'elicottero! No, 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 no. No, non ci credo. Niente, ragazzi. Cambiamo GTA e andiamo su GTA 4. Bene, ragazzi, ci siamo. Siamo qui su GTA 4. Non siamo male. Beh, signori, sapete che vi dico? Iniziamo subito così. Io inizierei subito così. Vai, vai, vai. Vai con i lanciarazzi, signori. Vai. Dobbiamo andarcene. Su GTA 4 la cosa sarà molto più complicata, signori, perché le dinamiche... Sono molto, molto diverse. Via lì. Perfetto, mamma mia. Signori, la vedrò dura. Veramente dura. Via, 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 via. Prendi questa qua. Perfetto. Mamma mia, signori. Immaginate su San Andreas con le 6 stelle, sempre se resistiamo. Perfetto. Mamma mia. C'ho la concentrazione veramente alta. Altissima. Cioè, non ho mai avuto una concentrazione più alta di così. Via. Perfetto, signori. Abbiamo già quasi raggiunto le 6 stelle qui su GTA 4. Ok, ragazzi. Ok, ok, ok. Prendiamo questo. Sapete che vi dico? Lì in fondo. Pam, proprio. Voglio vedere l'esplosione. Sì. Centrati in pieno. Lì. Missati. Cavolo, li ho missati. Vai. Pompà. No, ragazzi. La situazione qua si fa dura. Dobbiamo prendere una macchina. Dobbiamo prendere una macchina. Parti, 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 parti. Mamma mia, signori. Quanto stiamo resistendo. Abbiamo 5 stelle, eh. Devo scendere, assolutamente. Devo scendere perché non ce la faccio. Cambiamo veicolo. Cambio instant. No, ecco lui che è. No, vabbè, non ci credo. A caso. A caso viene un civile. E mi fa fuori. No, vabbè, ragazzi. Io non ci credo. Vabbè, ragazzi. Cambiamo GTA. E sapete dove andiamo? Proprio su Vice City, signori. Let's go. Ci siamo, siamo qui su GTA Vice City Remastered, signori. La Definitive Edition. Incominciamo subito. Vai, vai. Let's go. La facciamo venire immediatamente. Vediamo quanto resistiamo qui. Ragazzi, l'ho visto. Ho sentito, ho sentito l'auto. Eccola. Perfetto. Vai, vai. Che devi andare a resistere. Qui, come minimo, ragazzi. Resistiamo tantissimo, ne so sicuro. Non lo so. C'ho questo dubbio. Vai, 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 vai. Perfetto, perfetto. Vai, vai, vai. Che questo l'abbiamo fatto fuori. Vai, che questo l'abbiamo fatto fuori. Perfetto. Devo cambiare, però. Devo cambiare arma. Perfetto. Via anche loro, via. No! Mi hanno messo sotto. Non ci voglio credere. Vai, 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 vai. Ma quanto cavolo sono resistenti qua? Perfetto. Immagino già su San Andreas, ragazzi. Perché dopo di questo, se muoio, ci sarà San Andreas. No, che ci fanno qua i gangster? Oh, 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 oh. E loro da dove sono usciti? E loro da dove sono usciti? Via, via, via. Devo cambiare il veicolo. Devo cambiare il veicolo. Via. Ok. Spostiamoci immediatamente da qua. Mamma mia, ragazzi. Che casino. Facciamo fuori. No, sta scendendo la SWAT. Maledizione. Maledizione. Via, via. Aia. Che male, che male, che male. Via, 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 via. Ti lancio una molotov. Così voglio vedere. Haha. No, sono morto pure io. No, ma non ci credo, signori. Non è possibile. Va bene, signori. Allora sapete cosa vi dico? Passiamo a GTA San Andreas. Siamo qui su San Andreas. Io direi di cominciare subito. Ah, ballas. Aia. Oh, oh, i ball... Ballas. Come vi permettete a fare questo? Come vi permette... Madonna mia, ragazzi. No, no, non voglio che San Andreas si muoia subito. Ok. Mamma mia, signori. Abbiamo già metà vita. Cioè, com'è possibile questo? Ah. Oh. No, siete già qui. No, ragazzi, io ci muoio per i ballas di prima, mi sa. Lo sapevo io. Non ci voglio credere. Cioè, questo, ragazzi, mi sa che è il GTA che io ho resistito di meno. Sapete cosa vuol dire, ragazzi? Andiamo all'ultimo GTA. Ovvero GTA 3. Qui sull'ultimo GTA, ovvero GTA 3. E io direi... Vai! Let's go! Vai! Aia! Aia! Cioè, le auto esplodono così. Cioè, proprio senza un niente. Bastano solo due colpi. E quanto cavolo è forte sto bomba, scusami. E fa il devasto sto bomba. Non mi aspettavo che già morivo proprio per sto bomba qui, invece? Mamma mia! E' potentissimo! No, signori, ma è potentissimo! Allora, aspettiamo. Allora, aspettiamo. E tu che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Via! Eccoli là! Forse è meglio cambiare arma. Non lo so, perché non conviene. Vai con la pistolina qui! Pam, pam, pam! 3 stelle! Attenzione! Via anche loro! Via, 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 tutti! Ok, via, 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 via! No, ragazzi, qua dovevo tirare fuori questa armona! Che fa il devasto proprio! Via, signori! Li devo spostare! Ah! Via, 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 via! Aia! Ci fa... No, ragazzi, è difficile. Qua la vedo molto, molto difficile. No! L'hanno messo sotto! Cavoli! Aia! Uno di vita! No! Non ci credo! E niente, ragazzi, e niente. Va bene, ragazzi, è stato veramente divertentissimo fare questa sfida, signori. In conclusione, il gioco in cui sono sopravvissuto di più, ragazzi, è GTA Vice City. Veramente, ragazzi, questa sfida è stata veramente divertentissima, signori. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Bello, ragazzi! 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 Grazie a tutti